Ciao amici di Ape Time, buon pomeriggio, sono qui con Mr. President IBA, International Appetite Association, quinto italiano, sedicesimo nella storia. Prima di tutto, ciao Giorgio. Anch'io noi di solito, voi lo sapete, sono in giro con la magliettina di Ape Time. Io ancora non ce l'ho ancora, ma sono sicuro che presto lavoro la magliettina di Ape Time. E' già in partenza. Senti, ne hai fatta di strada dal bar Cossu? Eh? Da Iglesias, da quando avevi 14 anni. Qual è stata la scintilla? Ah, il bar Cossu sicuramente è stato un passo importante, perché prima di allora avevo fatto delle altre esperienze in altri settori, lavori molto più duri, di quella verità, alcuni li ho accettati solo perché mi davano la possibilità di andare in moto, nonostante la giovanità avevo 12 anni. E oltre al piccolissimo stipendio che mi dava mio cugino, che avevo in piscina, mi dava la possibilità di rientrare a casa con questa moto che si chiama Parilla, mi ricordo, è stata caronata, bellissima. Io grazie a tutti i 12 anni, poi per fortuna già alto, mi sentivo appagato così. Che cosa ne pensi del associazionismo oggi rispetto al passato? Le associazioni, a mio parere, oggi chiaramente non sono cambiate tanto, perché sono cambiate l'esigenza, perché abbiamo internet, abbiamo la possibilità di accedere, di farci dire la nostra voce attraverso, grazie a Dio dove voglio dire, perché è data la prova giustante almeno, perché attraverso piattaforme, come Time, mi hai detto una a caso, perché la è venuta fuori. Le associazioni dovrebbero avere la funzione di dare voce ai propri associati, no? Questo è il vero scopo, come vedo io, dell'associazione, perché i problemi sono stati, lo vediamo adesso sto fuori, no? Faccio un esempio semplicissimo, noi ci troviamo ad appartenere, abbiamo detto, a due associazioni diverse. In Italia le associazioni non sono solo, non sono dubbiose, ce ne sono alcune altre, sono 4 o 5, però se vogliamo dire la verità, siamo pochi, con pochi soci anche male organizzati e voglio spiegarti il perché. Spiegami questa cosa, se no perché, spieghiamo un bene questa cosa perché gli amici associati non sono... L'OSBG, che è l'associazione dei barman statunitense, americani, sotto Covid hanno avuto finanziamenti di milioni di dollari da parte di, non dico, non faccio nomi delle aziende, ma aziende che abbiamo anche in Italia, una troppo, quella Bronforma per esempio, supporto... Non ricordo se era la Baccarri Marchini o la Campari, insomma, hanno avuto diverse aziende che hanno supportato il darman in questo periodo, perché sono in tanti, perché hanno una voce unica. che cosa ne pensi, oltre del panorama delle scuole alberghiere, in Italia in particolare, sono ancora valide, è ancora un ottimo strumento per poter poi fare il salto di... il salto qualità più grande dal punto di vista professionale e poi accedere al corso di barman o è cambiato qualcosa? Ehm... Io ho una grande collaborazione da affrontare, questa mattina ho visto i progetti che sono stati apprezzati moltissimo, innovativi, io penso che ci sia un grande cambiamento, ho visto una gran crescita, i formatori vengono da scuole professionali, appartengono alla MIRA, all'AIS, altre situazioni di sommelier, all'AIDS, all'ABI, c'è gente formata per cui trasferisce questa conoscenza, questo sapere agli studenti, no, rispetto a quello che mi passiamo. Il tuo cocktail cavallo di battaglia, sia adesso codificato IVA oppure un segnatore reinventato? Allora, la premessa è che da due anni che non mi scello più perché sono in pensione, però sicuramente il martigno, l'americano... Dove la mini-elucazione mi ha fatto un'intervata... Dopo due anni? Viva! Ma è lo sbaglio quindi, se faccio qualche errore, perdonate! Fa niente, al massimo quello sbaglio lì lo beviamo! Senti, io ti ringrazio, noi chiudiamo per qualche secondo, rimanete qui perché facciamo due drink! Grazie per l'auto! Siente leakage! Funí lì! Grazie! Grazie a tutti! invоминаю le gasolere xisvongio.